Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 21 luglio. Forse, e lo capisco, sarete stanchi di sentire, domani è il giorno decisivo, questa è la settimana decisiva, lunedì prossimo è il giorno decisivo per la trattativa Milan-De Chetelare. Sarete anche stanchi, ma sono costretto a dare ancora una deadline, un giorno ultimo, anche se ultimo, e l'abbiamo già detto in diverse occasioni. Ma questa volta credo, spero di non sbagliare, dicendo, ma non sono mie sensazioni, se vi dico le cose è perché trapelano, che venerdì o sabato sia veramente l'ultima data per capire se il Bruges dirà sì al Milan, perché il problema è quello. Ieri colloquio, incontro, colloqui, incontri con i pleni potenziali del Bruges, il Milan ha voluto guardarli in faccia perché loro capissero che il Milan oltre non andrà, l'offerta massima. Il Bruges è già sceso, è già sceso dall'offerta, dalla richiesta, ma vorrebbe ancora più denaro di quello che il Milan abbia offerto. Il Milan ha detto oltre non andiamo. Forti forse della volontà di De Chetelare, che rispetto a Renato che aspetta il Paris Saint-Germain, lui vuol solo il Milan. Ci sono due concorrenti un po' lontani però, non solo a livello chilometrico, l'Everton e il Leeds. Ma parliamo di squadre, una arrivata a quart'ultima della scorsa stagione che si vuole rilanciare, però non gioca la Champions League, e l'Everton che è un'altra squadra che non gioca la Champions League. Allora il Milan ha detto aspettiamo fino alla fine della settimana, perché poi non è che non vogliamo aspettare, non possiamo più aspettare. Chiaro che il Milan ha la volontà di chiudere la trattativa, l'ha detto ai dirigenti del Bruges, ma ha detto anche che il Milan ha fatto uno sforzo alto, altissimo per acquisire il giocatore. Signori, sul mercato italiano non ci saranno tante squadre che supereranno un investimento intorno ai 30-35 milioni. Cash, perché non credo che ci saranno, speriamo bonus, speriamo per le casse del Milan. Ma quando vi chiedete, ci chiediamo, ma perché sono andati e non hanno chiuso? Volevano andare a parlare e a quattro occhi con i dirigenti del Bruges per far capire la serietà dell'offerta del Milan e anche la ferma intenzione del Milan di non andare oltre. Ora spetta solo al Bruges dire sì o no. Il ragazzo spinge e il titolo è proprio De Keteler, l'abbiamo già usato altre volte. De Keteler vuole, vuole il Milan. Vi avevo detto, attenzione, il Milan tornerà o con un sì o con un no e giovedì andrà su Ziyech. No, il Milan vuole fortemente De Keteler, lascia ancora, sperando che ci sia la happy end, ancora due giorni al Bruges per decidere, poi venerdì, cioè domani o sabato ci sarà la decisione finale da parte del Bruges. Il Milan quello che ha dovuto fare, che voleva fare, l'ha fatto. Ed è la stessa cosa, lo stesso atteggiamento che il Milan usa per Renato Sanchez. Offerta fatta a Lille, il Paris Saint Germain non è ancora fatta una, offerta mandata a Lille, quindi Lille l'ha detto ieri il presidente Lettang, o Milan o Paris Saint Germain. L'entourage di Renato Sanchez sa che cosa voglia il Milan, dove possa andare il Milan. Quanto a ingaggio? Milan anche lì, sono due colpe di telefono, uno del Bruges, sì o no, uno di Renato Sanchez, sì o no. Molto chiaro l'atteggiamento del Milan, molto molto chiaro l'atteggiamento del Milan e questo è il Milan. Per quello che riguarda dunque De Keteler, bisogna aspettare ancora. È un grande campione, è un grande talento, vuole il Milan, è già un vecchio cuore rosso-nero e adesso bisognerà vedere le decisioni del Bruges. Il Milan domani ho già saputo che sarà la giornata forse decisiva, perché oggi è una giornata interlocutoria, oggi secondo il Milan, a meno che telefoni il Bruges, non farà, ho già letto, il Milan domani rilancerà, ho letto ieri. Non rilancia più nulla. Il Milan non è andato per rilanciare a Bruges ieri, è andato per dire questa è la nostra massima offerta. L'ha detta al telefono, però dirla vis-à-vis, faccia a faccia, dà tutta un'altra sensazione, un altro appeal alla trattativa. Ecco il motivo. Ieri non vi mando nemmeno le parole di Maldini, bene bene, speriamo che tutto vada bene, quelle poche parole che ha detto, bene bene, presto e presto, quindi non ve le mando neanche perché è stato gentile con i colleghi, i colleghi sono stati ben pronti e incisivi nelle domande, però le risposte sono state ovviamente un po' evasive e in questo senso anche interlocutorie. Tutto è pronto, vediamo questo weekend, non solo importante perché vedremo la seconda partita amichevole del Milan, ma importante soprattutto perché sapremo se De Keteler, io faccio più il tifo per De Keteler perché sono purosangue, sono puledri tutti da scoprire rispetto a Ziyech, che è un grandissimo giocatore, se arriva a Ziyech è uno dei più forti giocatori che giocano nel campionato italiano, che giochino nel campionato italiano, indubbiamente, però anche io sono affascinato da questa figura ed è affascinato anche Pioli, tanto è vero che il Milan è andato, è andato, è andato sopra ma oltre non va. Ma veniamo a un altro punto importante, è un altro punto oggi delicato e parlo ovviamente, parlo ovviamente di difese e di difensori, ma prima voglio ricordarvi che ieri è uscito il quarto podcast sulla storia del Milan, il mio quarto podcast sulla storia del Milan che potete trovare su Spotify in collaborazione con starcasinop.sport, la vittoria del diciottesimo scudetto, la vittoria del diciottesimo scudetto non solo con la mia voce i gol di Ibrahimovic contro la Fiorentina, il Lecce da metà campo, Fiorentina rovesciata, ve la ricordate? Il gol con l'Inter quando lui apre le mani come se fosse il Cristo degli abissi di San Fruttuoso, ma anche minuto per minuto tutti i segreti della trattativa quando Adriano Galliani disse a Barcellona io non torno a Milano senza Zlatan Ibrahimovic. Sono stati giorni meravigliosi che io vado a rievocare nel mio podcast perché ero là, ero là a seguire questa meravigliosa trattativa. C'era il povero Mino Raiola, sempre molto cortese con i giornalisti, c'era Adriano Galliani che seguivamo per le strade del barrio gotico a Barcellona. Ma torniamo, torniamo alla difesa e ai difensori. Evan Ndika, giocatore che qualcuno aveva indicato come possibile rinforzo, sembra che non faccia impazzire i pleni potenziali del mercato, quindi lo scarterei, giocatore di 22 anni dell'Eintracht di Francoforte. Oggi è una giornata importante perché potrebbe esserci a Palazzo Parigi, che è un po' la base milanese, lo è sempre stata anche ai tempi della Juventus, di Fabio Paratici, l'incontro tra i dirigenti del Milan per Tanganga. Allora, se qualcuno già parla di un 2 milioni di prestito oneroso con 15 milioni come obbligo di riscatto, non so bene i particolari, questo è possibile, è possibile, Tanganga potrebbe essere un rinforzo. Però attenzione, perché potrebbero essere anche clamorosamente due rinforzi per la difesa. Nel caso che il Milan accontentasse Matteo Gabbia, che vuole andare a giocare, non se la sente più di rimanere in panchina e ha dimostrato il suo valore anche nell'amichevole di Colonia, il Milan innanzitutto deve verificare le condizioni di Chier. Se Chier fosse in eccellenti condizioni già a disposizione dell'allenatore Stefano Pioli, può darsi che il Milan vada solo su un difensore. In questo caso Tanganga è un nome, ma potrebbe andare su due se Chier non può ancora dimostrare di essere tornato al massimo della condizione. In questo caso, ma anche se Gabbia dovesse andare via, il Milan potrebbe andare su due giocatori. Uno potrebbe essere Tanganga, l'abbiamo detto, mettiamo questo nome. L'altro, attenzione, potrebbe essere Diallo, non pagando 25 milioni di euro, che è il suo costo, ma in prestito. Quindi pensate una difesa, ce la immaginiamo un attimo, perché sono cose concrete, con Tomori, Kalulù, Chier, Tanganga e Diallo. Il Milan ne vuole cinque. Ne vuole cinque, uno in più con Gabbia, due in più senza Gabbia, rispetto ai giocatori di oggi. Quindi sono tre per adesso, Gabbia se dovesse andare via, il Milan ne vuole cinque ne prenderà due. Quindi non di car, perché, ripeto, non fa impazzire i pleni potenziali del mercato rosso-nero, ma potrebbe essere addirittura Diallo. Giocatori di livello, dal costo alto, ma il Milan lo prenderebbe solo assolutamente in prestito. E poi veniamo ancora alla solita questione del centrocampista. Renato Sanchez, ieri il presidente Lettanga è stato molto chiaro. Vediamo che cosa succederà a Paris Saint-Germain o Milan e vedremo se sarà lui. Ieri avevo detto che il Milan forse avrebbe anche parlato nei colloqui con il Bruges, anche di Mbamba, giocatore di origine congolese di 17 anni. Ho verificato, mi hanno detto che hanno parlato solamente di De Ketelare e quindi stiamo a quello che mi hanno detto. Quindi niente Mbamba, che comunque è un giocatore che il Milan sta monitorando, giocatore che ha già giocato in Champions League per il Bruges, giocatore che ha già debuttato nonostante l'età di 17 anni. Quindi questa è la situazione. Venerdì o sabato dovrebbero essere questi i giorni del non The Day of Wine and Roses, vecchio film con la musica di Henry Mancini. The Day of Wine and Roses, grande film. Potrebbero essere i giorni decisivi per l'arrivo di De Ketelare. C'è un sostufo di dire che c'è l'ottimismo di fondo, l'abbiamo sempre detto. Il Milan pensa di aver fatto tutto quello che doveva fare, si è avvicinato ai 35 milioni che era la cifra iniziale, poi diventati 37 dopo l'offerta del Bruges e adesso non ci resta che attendere. Mi dispiace ripetere questi concetti, però questa è la situazione, che piaccia o non piaccia. Per il sorpasso, la prossima volta la maglietta è sempre lì, che ricorda un meraviglioso scudetto numero 19. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella.